Una buona serata ai telespettatori di VideoBergamo e benvenuti a TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo di unità cinofili da soccorso e lo facciamo in compagnia di Giovanni Martinelli. Buonasera. Buonasera. Responsabile del gruppo cinofilo Algo. Poi abbiamo un secondo ospite, altrettanto importante, si chiama Greta, se la regia riesce a inquadrarlo. È uno dei cani del vostro gruppo, giusto? Sì, è uno dei nostri cani operativi, è un Weimaraner di tre anni che fa parte della forza operativa del nucleo. Allora, prima di iniziare a parlare con le esercitazioni in Val Susa da cui siete appena tornati, volevo chiedere che cos'è questo gruppo, di che cosa si occupa e qual è un po' la sua storia. Il gruppo nasce nel 1986 per cui stiamo macinando 27 anni di storia. Siamo nati come unità cinofili da soccorso sull'onda degli interventi che gli alpini avevano fatto in Friuli e in Irpinia, sui grossi terremoti. Tornati a casa abbiamo pensato di far partire questa squadra di cani da soccorso, questo nucleo cinofili da soccorso, e abbiamo brevettato i primi nostri cani nell'88. Da allora oggi abbiamo brevettato una ottantina di cani e pertanto direi che siamo, a livello nazionale, siamo la squadra più vecchia degli alpini, dell'associazione nazionale degli alpini siamo i più vecchi e siamo oggi più numerosi come unità operative. Ma come funziona l'addestramento? Come si addestra un cane a un compito così difficile? L'addestramento viene fatto dal conduttore dal cane e infatti si chiama unità cinofili da soccorso proprio per questo e deve essere un lavoro che fa il conduttore chiaramente istruito all'interno del nucleo. L'addestramento è tutto su un metodo di rinforzo positivo, con una grande motivazione da parte del cane al lavoro e portare queste unità a cercare un uomo in montagna, calcolando che utilizziamo cani che non è che cercano l'uomo in natura, ma li portiamo proprio a fare questo tipo di attività. È un addestramento che dura circa due anni, quello intensivo per il brevetto, e poi è un continuo rinnovare questa voglia, questo gioco, perché per loro sostanzialmente è un gioco, questo gioco di andare a cercare una persona. Il nostro nucleo cerca dispersi in superficie, cioè persone che si perdono in montagna o sepolti sotto le macerie a causa di un terremoto. Ecco, tal proposito, vuole ricordare magari un intervento che a cui è stato più a cuore? Gli interventi, noi abbiamo superato abbondantemente 150 interventi reali di soccorso in questi anni nelle nostre montagne. Certo, un intervento che ricordo con molto piacere è l'intervento a Oltrecolle Serina, dove abbiamo recuperato in tarda nottata, abbiamo cercato in collaborazione con gli altri enti che partecipavano a queste ricerche, abbiamo recuperato appunto due bambini con il nonno, è stato un bel intervento, concluso fortunatamente bene. Spesso gli interventi non si concludono bene perché quando interveniamo è successo qualcosa di grave in montagna, se una persona non rientra c'è sempre insomma da pensare male. Esatto, in questo momento degli spettatori stavano guardando alcune delle immagini dell'esercitazione in Val Susa, ce ne vuole parlare? Sì, siamo appena rientrati ad un'esercitazione che abbiamo fatto con gli alpini in armi, siamo stati alla base operativa degli alpini della Taurinense e abbiamo con loro lavorato quattro giornate a stretto contatto con i ragazzi in armi. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca, una giornata intera insieme con i soccorritori della Guardia di Finanza, il SAG ci ha attrezzato una teleferica. Ecco qui, stiamo guardando in questo momento le immagini con i vostri cani. E poi abbiamo fatto una salita a oltre 3.150 metri al forte allo Shaverton che è il forte più alto d'Europa, quello che veniva chiamato il forte tra le nuvole, che è un forte ormai in disuso da anni, dalla Seconda Guerra Mondiale, è stato abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale e però è caro agli alpini per cui siamo saliti fino a 3.150 metri per rendere omaggio ai caduti dello Shaverton e per fare anche quella che è un allenamento per noi per essere sempre pronti a operare in montagna. Un'inferitazione in collaborazione con gli alpini, infatti se la regia mi assiste possiamo vedere il video dell'alza bandiera. Certo, la mattina come tutte le nostre attività, essendo l'Associazione Nazionale Alpini, ci piace partire con l'alza bandiera e all'interno di una caserma ancora operativa aveva ancora un significato ancora maggiore per noi. Partire le nostre attività ricordiamo che siamo l'Associazione Nazionale Alpini e noi ci teniamo le nostre radici. Il fatto di essere partiti, di servire in tempo di pace il nostro paese in questo modo credo sia importante. Ecco, vediamo un estratto del video in questo momento, vediamo se parte. Abbiamo potuto vedere da questo video che i cani sono sempre attenti e tranquilli. Sì, fa parte dell'addestramento, il cane deve essere molto socievole con gli altri simili suoi, con le persone che incontra, non deve litigare, non devono esserci episodi, anche se devo dire che in una squadra di 23 unità operative di razze completamente diverse ogni tanto qualche tensione c'è all'interno delle unità, non sono tutti soldatini veramente, però tutto sommato abbiamo ottenuto e otteniamo ottimi risultati. Possiamo poi lavorare, quando abbiamo ottenuto questo, con squadre diverse. Il 14 di questo mese ci sarà un'esercitazione in Valcamonica di tutte le unità cinofedali alpine del secondo raggruppamento. Lavoreremo con cani che arrivano da Lecco, da Varese, da Como, da Valcamonica e con loro lavoreremo insieme, cani che non si sono mai incontrati ma lavorano insieme. Vediamo infatti Greta che è qui con noi e non si sente neanche davvero buonissima e bravissima. Ma appunto, lei diceva razze diverse, come si sceglierà la razza? Ci sono delle razze più predisposte oppure no? Beh, decisamente sì, ci sono delle razze che per addestramento oppure proprio perché sono state utilizzate da tanti anni nel lavoro, sono predisposte al lavoro. Anche se, devo dire, tutti i cani possono arrivare a fare questo. È chiaro che razze, tra virgolette, cosiddette primitive oppure razze con molto sangue lupoide tipo i cani, i cani nordici, sono già più difficili da portare ad addestramento. Però si può arrivare, la nostra squadra per esempio ha brevettato nel tempo un samoyedo che era un ottimo cane alla ricerca e quando la gente vedeva questo samoyedo lavorare ci guardava dicendo ma strano, non siamo mai riusciti a ottenere buoni risultati con questi cani. I cani poi sono decisamente, ogni cane all'interno della razza c'è un suo tipo, per cui ogni razza esprime poi sue peculiarità e ogni cane ha la sua storia. Vanno bene tutti, vanno bene anche i meticci, tant'è che noi abbiamo diversi meticci in squadra e sono ottimi esemplari anche loro. Il problema del meticcio è che è un modello unico e ripetibile, mentre se parliamo di un pastore tedesco, di un labrador, oggi ci siamo portati su queste razze di cani da caccia che sono quello che è qui oggi con me, un Weimaraner, questi cani da caccia che vanno benissimo, bisogna modificare la loro predatorietà dalla preda a caccia nella ricerca di un uomo, ma si riesce bene e hanno una buona tempra. Ma perché volesse entrare nel vostro gruppo, quindi far parte, diventare volontario, come deve fare? La cosa principale per entrare con noi bisogna avere una buona dose di, un amore per gli animali, una buona dose di cinofilia. Per entrare a far parte dell'Associazione Nazionale Alpini non è necessario aver fatto il servizio militare nelle truppe alpine, ma bisogna un po' condividere gli ideali degli alpini che sono il senso di solidarietà, l'amore per la patria e anche quel senso di servizio che noi abbiamo nei confronti degli altri. Per cui si può entrare a far parte del nostro nucleo, le informazioni si possono trovare sul nostro sito www.argoalpini.it Lì si trovano tutte le informazioni per entrare a far parte, oppure si può venire a visitare il nostro centro di addestramento che è in Varseliana, Fiorano a Serio, sulla confluenza con la Valle Gandino, proprio lì al Bivio c'è il nostro campo di addestramento. Lì noi ci siamo tutti i sabati pomeriggio. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, io ringrazio Giovanni Martinelli per essere stato qui con noi, ringrazio anche i telespettatori di VideoBergamo e auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.